Agli ottavi di Champions la Juventus a pesca e il Villarreal, mentre l'Inter trova il Liverpool nel nuovo sorteggio effettuato dopo l'annullamento del precedente per un problema tecnico del software. Dopo il reclamo di alcune società, l'UEFA ha rifatto tutto da capo. L'andata degli ottavi si disputerà tra il 15 e il 22 febbraio, mentre il ritorno tra l'8 e il 16 marzo. Questo è il tabellone. Salisburgo-Bayern-Monaco, Sporting-Lisbona-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lilla, Atletico-Madrid-Manchester United, Villarreal-Juventus, Inter-Liverpool-Paris-San Germain-Real. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS